Trani, le cave sotto la lente di ingrandimento dei carabinieri, 10 denunce, sequestrati, due siti, 10 persone denunciate per reati in materia ambientale e paesaggistica connessi all'esercizio dell'attività estrattiva nelle campagne tranesi e due siti sequestrati e il bilancio di un'operazione condotta dai carabinieri della compagnia di Trani e del nucleo operativo ecologico di Bari durante l'esecuzione di controlli effettuati per le campagne cave predisposta nel territorio della regione Puglia per verificare la rispondenza delle attività estrattive a canoni di legalità per recuperare le aree interessate dalla coltivazione delle cave. Sono stati compiuti con il concorso di personale dell'ufficio attività estrattive regionali dell'ARPA Puglia e dell'autorità di Bacino. I controlli hanno riguardato una pluralità di siti. Pur riscontrando un generale stallo dei lavori in due siti posti all'interno ridosto dell'area di Lama Paterno sono scattati sigilli con finalità probatoria per ben 60.000 metri quadrati complessivi quelli che sono stati sequestrati dai carabinieri. All'esito delle rilevazioni effettuate anche mediante l'ausilio di droni è emerso l'esercizio abusivo dell'attività poiché svolta in aree non autorizzate ad elevata pericolosità idrogeologica. Spregiudicata l'azione posta in essere in una delle cave oggetto di contestazioni. In tutti i casi è stata rilevata l'esecuzione di attività di scavo a profondità vietata. Informata la Procura della Repubblica di Trani, i dieci denunciati, proprietari e conduttori dell'attività di scavo dovranno rispondere di attentato alla sicurezza dei trasporti, inquinamento ambientale, distruzione e detonamento di habitat all'interno del sito protetto. Gravina in Puglia, cocaina e hashish in casa presi due fratelli. Nascondevano in casa cocaina e hashish. Lo hanno scoperto i carabinieri di Gravina che hanno arrestato due fratelli di 27 e 25 anni accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze insuperfacenti. I militari si sono appostati nei pressi dell'abitazione di due fratelli e hanno notato un sospetto via vai. I carabinieri hanno fatto irruzione nell'abitazione ed hanno compiuto una perquisizione. Durante le operazioni hanno trovato sul tavolo del cucinino due panetti di hashish da 100 grammi ciascuno, un coltello sporco della stessa sostanza e un rotolo di nastro isolante. Nel ripostiglio hanno anche trovato un panetto di hashish dello stesso peso. Mentre sul mio scaffale è stato rinvenuto un involucro contenente 50 grammi di cocaina e una busta in celofan contenente sostanza da taglio oltre due bilancini, un foglio di carte contenente nominativi e cifre espresse in euro, ovvero la lista dello spaccio. È stato infine trovato nelle tasche del 25enne. Immediatamente sono scattate le manette e i polsi dei due fratelli. Perquisizioni in corso per la realizzazione del nuovo cimitero di Canosa. La Procura della Repubblica di Trani, la Polizia di Stato di Canosa di Puglia, ha denunziato oltre 19 persone, tra cui funzionari pubblici e incaricati di pubblico servizio, ritenuti responsabili a vario titolo, delle addi di frode in pubbliche forniture e falsità ideologiche in atti pubblici, danneggiamento di beni storici e artistici, pericolo di crollo di costruzione ed altro. Le indagini avviate dal locale commissariato di pubblica sicurezza sono relative a due appalti banditi dal comune di Canosa in Puglia in relazione al consolidamento di alcune cavità ipogee e ai lavori di ampliamento del nuovo cimitero di Canosa di Puglia. Lavori iniziati nel 2014 e tuttora in corso, aggiudicati per l'importo complessivo di circa 6 milioni di euro e svolti in violazione della normativa di settore. La complessità dell'attività di indagine coordinata dal Pubblico Ministero dottor Michele Ruggero ha condotto all'esecuzione di varie perquisizioni allo scopo di rinvenire documentazione scientifica, report di scavo e materiale di interesse storico-artistico per le indagini. Nella medesima circostanza è stato sottoposto a sequestro probatorio l'intero cantiere di ampliamento del nuovo cimitero comunale. A Gravina un incontro. La mafia uccide, il silenzio pure. Le associazioni Agesci Gravina 3 e Libera Presidio di Gravina hanno organizzato per sabato 12 marzo alle ore 18 e 30 nell'auditorium della chiesa di San Sebastiano in Gravina un appuntamento dal titolo Mafia e comportamenti mafiosi. Cosa ne pensa la città di Gravina? Interverranno Nicola Magrone, magistrato Alessandra Ricupero, Libera Puglia, Filippo Loizzo, Agesci, Gravina 3. Testimonianze di contrasto alle mafie e pubblicazione dei dati raccolti attraverso un'indagine conoscitiva fatta in città. Un titolo forte per una problematica altrettanto forte sicuramente non risolta. Quando si parla di mafia non viene più in mente l'omaccione con la lupare e la coppola. Ormai tutti sappiamo che si annida in ogni dove e nelle persone da cui meno te lo aspetti. Nell'imprenditoria, nello sport, nella pubblica amministrazione, nella politica, nell'editoria, nel condominio accanto a casa nostra. Elezioni e referendum. Movimento 5 Stelle scrive ai comuni. Sorteggiate gli scrutatori tra i disoccupati. Il Movimento 5 Stelle Puglia ha inviato un'istanza tramite posta certificata a 258 comuni pugliesi nella quale chiede di pubblicare un avviso pubblico affinché gli scrutatori per le prossime consultazioni, sia referendarie che elettorali, siano sorteggiati per i due terzi tra disoccupati, inoccupati e studenti e per un terzo tra tutti gli altri iscritti all'albo preposto. I comuni infatti hanno la facoltà di nominare gli scrutatori in totale autonomia e quindi di procedere anche tramite sorteggio secondo vincoli prefissati. In molti comuni pugliesi, gli attivisti del Movimento 5 Stelle hanno già protocollato questa istanza, in vista dell'imminente referendum sulle trivelazioni del 17 aprile.